Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Settimana scorsa, nel video su Fallout, abbiamo visto come un incontro apparentemente semplice può essere sfruttato su vari livelli. Ora, so che la serie del generatore a Fallout Story non è seguita da tutti e anche in quel caso in cui video mi concentro sulla storia vera e propria che viene raccontata nella campagna. Quindi diciamo che cominciamo l'anno con questo video in cui andiamo a parlare in maniera più generale di come sia possibile sfruttare un incontro su più livelli. Cominciamo facendo una doverosa premessa. Molto spesso quando si parla di incontro si va a pensare a un incontro di combattimento in cui i giocatori vengono messi contro un avversario e bisogna uscire le armi e risolvere la questione con uno scontro. Ma in realtà un incontro all'interno di una quest è un qualunque evento in cui i giocatori vengono chiamati a prendere un qualche tipo di decisione o a interagire in qualche modo con l'ambiente. Quindi sì, affrontare a spada tratta un gruppo di orchi è un incontro, ma anche disarmare una trappola, origliare dalla serratura della porta, risolvere un enigma, contrattare con un mercante e fare una bella figura al ballo di corte, sono tutti potenzialmente degli incontri. Ogni incontro ha un suo obiettivo principale che dipende dal tipo di incontro, ma fondamentalmente sarà quello di fare in modo che i giocatori prendano la decisione che è previsto prenderlo per quell'incontro. In un incontro di combattimento sarà combattere i nemici o fuggire dai nemici o aggirare i nemici, comunque superare i nemici. In un incontro sociale sarà convincere, mentire, ingannare o evitare di essere convinti, mentiti o ingannati. Ma quando un incontro viene presentato ai giocatori in una quest viene presentato per un motivo in particolare. Questo però non deve impedire che quell'incontro, una volta assunto il suo ruolo principale, una volta che il suo obiettivo principale è stato esaurito, non possa avere degli elementi ulteriori e avere ulteriori scopi rispetto al motivo principale. Il primo livello di un incontro che è quello che è sempre presente è il livello meccanico. Questo dipende totalmente dal sistema di gioco che state usando. Giochi diversi hanno regolamenti diversi, ma diciamo che ogni incontro servirà a fare eseguire ai giocatori una determinata procedura di gioco e poi a valutarne gli esiti. Non necessariamente questa però sarà la funzione principale dell'incontro. Nel video della settimana scorsa di Fallout, nel caso che lo lascio qua in alto, abbiamo visto come i giocatori sono stati chiamati a eseguire una serie di prove apparentemente per liberare percorsi alternativi all'interno del dungeon, ma che in realtà servivano principalmente a fare in modo che i personaggi facessero rumore e allertassero i mostri della stanza a fianco. Probabilmente lo scopo meccanico più comune di un incontro è però quello di far sprecare risorse ai giocatori per causare tensione tramite l'incertezza, sapendo che i giocatori sono coscienti che l'incontro finale avverrà alla fine di una lunga serie. Semplicemente i giocatori non sanno quanti incontri dovranno affrontare prima del boss finale e quindi ogni volta che vorranno utilizzare qualcosa che ha un uso limitato nel gioco saranno sempre nel dubbio se gli conviene utilizzarlo adesso o se è meglio che se lo tengano perché l'incontro successivo potrebbe essere ancora difficile. Altri casi di livello meccanico potrebbero riguardare azioni che i giocatori possono intraprendere e che andranno poi a dargli un vantaggio o uno svantaggio in futuro rispetto alla quest. I giocatori sono inseguiti dai loro avversari e hanno la possibilità di far saltare per una diga e quindi far scorrere il fiume in piena e tagliare la strada ai propri avversari. Questo vuol dire che in quel momento di gioco avranno più possibilità di scappare ma si precluderanno la possibilità di tornare indietro o se la renderanno semplicemente più difficile. Diciamo che in pratica ogni incontro all'interno della quest potrebbe non solo avere delle sue meccaniche specifiche per fare quello che i giocatori sono chiamati a fare ma potrebbe successivamente andare a influenzare altre meccaniche in momenti successivi della quest. Una volta che i motivi più funzionali dell'incontro sono stati risolti nulla ci vieta di usarlo per incrementare i livelli di informazione forniti ai giocatori. Anzi fare in modo che ogni scontro abbia vari livelli di informazione attaccati è uno dei metodi migliori che ci permettono di fornire più informazioni possibili ai giocatori nel minor tempo possibile nella maniera più organica possibile all'interno della quest. La cosa migliore da fare per questo è prendere i singoli elementi che costituiscono l'incontro e descriverli all'interno del gioco in base a cosa c'è più utile inserire o che cosa abbia più risonanza con i temi di cui vogliamo parlare durante il gioco. A livello più basilare questo vuol dire fare in modo che gli incontri siano coerenti con l'ambiente del gioco circostante. Se i nostri eroi stanno camminando nei vicoli bui di notte nella zona malfamata della città è molto più probabile che incontrino un gruppo di rapinatori che vengano attaccati da un branco di lupi. Quello sì che sarebbe un colpo di scena, ma non necessariamente bisogna limitarsi a questo. Invece di dire che vengono attaccati da dei rapinatori generici, quei rapinatori potrebbero vestire in una maniera particolare, parlare in un modo particolare, avere armi di un certo tipo che facciano riferimento a altre cose presenti nell'ambientazione. Magari i rapinatori sono armati di pale e picconi e più avanti nel corso della quest i giocatori scopriranno che lì in zona una volta c'era una miniera, ma poi la miniera si è esaurita, è stata chiusa, i minatori sono stati licenziati e questo ha causato molta disoccupazione in città. Questi elementi comunque non devono far necessariamente riferimento diretto alla quest, è conveniente ma non è indispensabile. Potrebbero essere semplicemente inseriti per aumentare la verosimiglianza nel mondo. Quando i giocatori passano al mercato della città, tra le bancarelle che trovano ce ne sarà una di un mercante che viene da un paese lontano ed esotico che ha della merce strana e bizzarra. Il paese lontano ed esotico magari non c'entra assolutamente nulla con la quest, non è previsto che i giocatori vadano a visitarlo né che venga nominato ulteriormente durante quella linea narrativa. Però è un modo per ricordare ai giocatori che la mappa si estende molto di più rispetto a quella che vedono loro e che possano capire che il mondo è molto più vasto di quello che pensano. Di questo abbiamo già parlato di più e più a fondo nel video sulla narrazione mimetica, ve lo lascio qua su se dovete ancora andarlo a recuperare, oramai un po' vecchiotto. In alternativa, o come abbiamo visto nel video di Fallout della settimana scorsa, in aggiunta a tutto questo, l'incontro potrebbe avere anche lo scopo di permettere ai personaggi dei giocatori di interagire tra di loro in maniera significativa. Per accentuare questo livello sono preferibili gli incontri che abbiano un livello meccanico relativamente più semplice o il cui esito non è immediatamente certo da parte dei giocatori. Se i giocatori vengono attaccati dal rapinatore nel vicolo, molto probabilmente la loro attenzione sarà immediatamente concentrata sulla griglia tattica o comunque gli aspetti meccanici del combattimento. Difficilmente si metteranno a ragionare tra loro sui bassimi sistemi della vita, l'universo e tutto quanto, mentre qualcuno sta attivamente cercando di raccontellarli. Ma se mentre i giocatori stanno viaggiando con la loro astronave e ricevono un segnale di soccorso, magari basterà una singola prova e una qualche abilità per intercettare il segnale e tracciarne l'origine, ma i giocatori avranno la possibilità di discutere tra di loro sul fatto se rispondere o meno alla chiamata. Il segnale arriva dagli asteroidi, negli asteroidi si nascondono i pirati. È veramente un'altra astronave in difficoltà o sono i pirati che stanno tendendo una trappua? Dato che i giocatori non sono nell'immediato pericolo e non sanno quale sia l'effettiva risposta corretta alla situazione, ogni giocatore avrà la possibilità di far intervenire il proprio personaggio nella maniera che ritiene migliore, più coerente con come lo vuole portare in gioco e avranno anche la possibilità di discutere tra di loro su rispondiamo meno alla chiamata di soccorso in questo caso. In pratica anche se superare l'incontro è estremamente semplice può portare a un lungo periodo di discussione tra i giocatori e quindi aumentare le loro possibilità di far interagire i personaggi tra i loro e quindi creare enfasi sugli aspetti ruolistici del gioco. Ovviamente questi aspetti non si escludono a vicenda, anzi più cose il master riuscirà a inserire in un singolo incontro meglio sarà perché quell'incontro avrà più profondità, più spessore drammatico. Fate però attenzione a non fare l'errore di cercare di mettere troppa roba all'interno di un unico incontro anche quando non ce n'è bisogno. Un incontro che sia già di per sé meccanicamente molto complesso in cui vengano fornite molte informazioni e elementi di loro o di background e in cui i giocatori siano anche chiamati a interagire tra di loro o fare scelte molto profonde potrebbe semplicemente raggiungere un grado di complessità tale da diventare un enorme mischione in cui i giocatori o semplicemente non capiranno più quello che sta succedendo o saranno fondamentalmente costretti a focalizzarsi su uno degli aspetti dell'incontro a discapito degli altri creando anche uno squilibrio tra i giocatori stessi perché qualcuno si concentrerà su qualcosa e qualcun altro si concentrerà su qualcos'altro. Quale però sia il grado di complessità che vada bene per il vostro gruppo ovviamente dipende da gruppo a gruppo. Alcuni gruppi possono gestire più cose altri gruppi possono gestirne meno. Come consiglio personale la cosa migliore da fare è cominciare con incontri relativamente semplici con magari un solo elemento e poi man mano nell'arco della campagna inserire progressivamente più elementi fino a vedere quando il gruppo raggiunge il suo limite e in più il gruppo avrà anche la possibilità di crescere assieme e migliorare anche le proprie capacità di gestione degli incontri. Parlando di non aggiungere troppa roba diciamo che per questo video è tutto. Adesso la parola sta a voi. Scrivetevi nei commenti qui sotto come voi utilizzate gli incontri per aggiungere spessore narrativo e per aggiungere più elementi. Come sempre se avete domande o dubbi o perplessità scrivete anche quelli. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che è avuto a crescere il canale. In descrizione trovate i link social alla community del Master Kai. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Io sono il Master Kai, noi ci vediamo nel prossimo video.